Musica Nuova tragedia sul lavoro, a due giorni dal primo maggio, festa dei lavoratori. È avvenuto questa mattina alle porte di Alessandria, un uomo morto in un cantiere della logistica di Amazon. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai sanitari. Altri tre operai sono rimasti feriti, ora si trovano al pronto soccorso della città. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma dalle prime informazioni raccolte sembra che sia crollata una parte della struttura. In una nota Amazon ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'operaio ad Alessandria. Si tratta di un incidente terribile, i nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle persone coinvolte. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità.